La Sala Bolaffi via Cavour 17 a Torino ospita dal 21 al 28 febbraio la mostra Don't Forget, l'arte e la resistenza. L'esposizione è composta dalle opere di 44 artisti piemontesi che hanno messo a disposizione i loro dipinti per un'asta benefica in favore del Museo Diffuso della Resistenza e dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino. L'iniziativa è stata presentata il 15 febbraio dal Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Placido e dai Presidenti del Museo Diffuso della Resistenza e dell'Istituto Gian Maria Iani e Claudio della Valle. L'asta finale delle opere esposte si terrà martedì 28 febbraio alle 20.45.